Gli italiani, io e Sabino siamo scesi in elicottero, a proposito Sabino spegne l'elicottero in un paese a caso per dimostrare che va tutto bene Vedete dove stiamo? Qui in Italia i castelli crescono come i funghi, così, metti l'acqua e cresci il castello Qua c'è un ordine spaventoso, avete visto tutti i giardini belli, fatti bene, i fiori che crescono già a forma dell'aiuola Stiamo bene, non dovete gufare, la crisi è passata Mi raccomando, non abbattetevi, vedete qua com'è bello Mo' vi faccio vedere un sacco di cose, turisti, gente, ristoranti pieni, negozi pieni, le presto che buttano i soldi a terra Stiamo bene Turisti? Inglesi? No, no, grazie, grazie No, grazie, vuol dire che stanno mangiando I turisti vergono da noi e rimangono, proprio, trovano un posto e rimangono qua, proprio, non vanno neanche a dormire Non parlo bene inglese, quello, shish, non capisco, però hanno comprato pure i russi Vedete gli artisti? Abbiamo le strade piene di artisti in Italia, cioè, vicino a un castello, l'artista, la chiesa, l'artista, la tomba, l'artista, fuori e l'artista morto dentro Che cosa dobbiamo avere di più? Che meravigli le nostre chiese, quante chiese abbiamo, è bellissimo, adesso voglio fermare qualcuno Signora, come si vive qua? Qui si vive benissimo Ma dove ci troviamo? Ci troviamo a San Marino Provincia di? Non provincia, Repubblica di San Marino Stato indipendente da più di 1700 anni, rispetto all'Italia estero E' visto, e' visto? Le persone stanno così bene che pensano si sarà all'estero E' noi che invitiamo a quelli dell'estero Noi siamo all'estero! Giovani! L'arte, le mostre, le gallerie, non si capisce quante cose abbiamo noi Fanno mostre e cose, per esempio, che so, questa è una mostra sugli imperatori Che noi abbiamo avuto tanti imperatori, no Sabino? Quello è Valentino Rossi L'imperatore Rossi? Però le fanno le cose, vedete? Qua vengono, fanno, mostrano No, vabbè, no Stiamo a parlare dell'Italia Gli italiani, l'arte, i musei e parcheggiano la moto qua Oh, chi ha lasciato la moto? Per piacere dovete venire a togliere se facendo il video Di chi è? E dai, non facciamo così che facciamo la figura poi di quelli che è Me! Avete visto, amici? Abbiamo scelto un paese a caso italiano Siamo venuti, abbiamo trovato che va tutto bene I ristoranti pieni, i giardini curati E i monumenti, le chiese, i castelli, il turismo Che cos'volete di più? Non fate i pessimisti! Ma stiamo a Samarino Eh, Samarino, è bel Samarino Oh, Samarino non è Italia Allora aveva ragione la signora Io penso che stiamo un po' freccata Vabbè, Samarino, facciamo una cosa Tagliamo il finale Tanto uno pensa che stiamo in Italia